Allora, una canzone che mi appartiene, chi è stato a Gatteo, chi guarda la televisione, ci appartiene perché racconta l'Italia di una volta quando andava peggio, ma sicuramente andava meglio. E chi mi conosce sa che faccio parte di una famiglia semplice e numerosa. La mia mamma Dolores, la donna, che l'ha portato su Milano The Voice dalla Clerici, che ha avuto un successo con Albano, vi ricordate, no? È stata una sovistrazione enorme. Mia mamma a 90 anni va in bicicletta a fare la scuola per un matterello e quando era giovane faceva la salta. Il mio babbo Adriano, che in cielo faceva il falegnale, ma non erano Giuseppe e Maria, perché hanno fatto 6 figli, signore. Io sono la seconda, perché mio babbo lavorava all'estero, tornava dopo 12-15 mesi, siamo andati a gruta calato, ti capisco? Sa signora, la televisione non c'era, allora sa com'è. E quindi io da ragazzina, volevo già andare a lezioni di canto, volevo comprarmi le scarpe, non queste, dai. E allora andavamo a fare la commessa nella bottega dell'idina di Predacchio, che è il mio paese natale. Le botteghe di una volta, nei nostri paesi, dove la gente andava a fare la spesa, con il libretto delle spese. Vi ricordate? Si segnavano le spese e pagarle fine mese era un gran lusso. Perché vuol dire che la famiglia è andata bene, che c'era di lavoro per tutti. Adesso tutti i passi, i depresioni, bonus di qua, bonus di là. Andiamo a fare la spesa nella bottega dell'HP. Vai, vai, vai! Sono tornato al mio paesello, quello della mia gioventù, certo è cambiato, ma è ancora quello che io non scorderò mai più. La vecchia piazza della chiesa, dove l'ho conosciuto te, è però chiusa la percorso, quanti ricordi dentro me. Nella bottega di una volta, si dà poco, quasi niente, mancava tutta l'idina sempre. Nella bottega di una volta, si segnavano le spese e ci pagavano i appi di mese. Nella bottega di una volta, il latte fresco ti trovavi, il pane caldo e i moffoni. Non c'era il vino e i cartoni, e l'acqua già si fa, con l'era della plastica. Vai, cosa tu ti ricordi? Su le mani, vieni a te, vieni, 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 vieni. Adesso vanno tutti dal supermercato, con il camarello e la carta di credito. Cerco le vecchie tradizioni, non sono più in auze, ma hanno lasciato nella mente Quello dolce senso di benedà, quei bei panini col sale, quello strano, quello chic, le caramelle dentro il vetro, e poi la penna quella big. Vai! Nella bottega di una volta, si era poco o quasi niente, ma andava tutta lì a sempre. Nella bottega di una volta, si segnavano le spese, che si pagavano i appi di mese. Nella bottega di una volta, il latte e il resto, tu lo amavi, il pane caldo e i bomboli. Non c'era il vino e i cartoni, e l'acqua già si fa, con l'era della plastica. Nella bottega di una volta, il latte fresco, tu lo amavi, il pane caldo e i bomboli. Non c'era il vino e i cartoni, e l'acqua già si fa, con l'era della plastica. Trovavi una fresca, bella volta, nell'autorega. Di una volta. Sì! Fatevi sentire di più di più! Signori e signori, la regina della Romagna, Roberta Pappelletti! Di più, di più! E via! E di qua! Che meraviglia, ragazzi! No, ho visto che quando ho tirato su le gambe, si è visto qualcosa. Perché sotto il vestito... Come niente, signori! C'è un amico che dice che c'è l'America, l'ha sotto la pittura. Ma io ho visto breve che si sono apparati tutti i locali, eh! Poi non c'è neanche la nebbia stasera. Tanto per scherzare da buoni romagnoli come siamo. Signori, davvero vi ringrazio per questo affetto che mi avete regalato questa sera. Perché sono tanti anni che giriamo l'Italia in lungo e largo. E quando si ritorna in questi posti di grandi ricordi, vedere i vostri sorrisi, le strette di mano... Ma c'è una cosa che non apprezzo per chi fa questo mestiere. Il vostro spontaneo, generoso, caloroso applauso. Grazie! Signori, la vostra Roberta Pappelletti! Allora, lasciamo la linea alla regia intanto se sono già in console. È vero?